L'esigenza comunque di farlo fare ai giocatori perché il campionato è quella che vogliamo mettere sempre Liga, 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 Liga numero uno. Quali dei due? Una metteria, una metteria. Noi ci teniamo a fare della figura di lei, però la licea passa di più e lo toccherà. È un obiettivo e non ci preoccupiamo. E cercheremo di fare le rotazioni giuste per vedere di essere molto obiettivi al 100%. Oddio che in Italia non per noi rappresenta un'ulteriore procedura, no? Se questo di Novara non l'abbiamo centrato, abbiamo tutta l'intenzione di voler centrare in più una cosa lì. Posso? Grazie.